di ISDE, di Istituto Ramazzini e del Dottor Pan del tema inquinamento e dell'effetto anche che questo ha avuto sull'epidemia da Covid-19. Inquinamento che è un problema della nostra area, della nostra pianura padana, in particolare una delle cinque aree più inquinate d'Europa, ma un problema che a livello globale causa 9 milioni di morti, causa quasi un milione di morti solo a livello occupazionale e un problema che quando andiamo a sovrapporre la Covid-19, per esempio, per ogni microgrammo di particolato abbiamo un aumento del 4% di mortalità. Se ci chiediamo cosa significa, nelle nostre città mediamente abbiamo 40 o 50 microgrammi non di rado in questa pianura padana che purtroppo di inquinamento sa tanto e ha tante vittime seminate già anche senza il Covid.